Salerno Pulite e Comune annullino il bando per la selezione di 26 nuovi operatori o dichiareremo lo sciopero. È il messaggio lanciato dalle sigle sindacali. Dopo le tensioni verificatesi in mattinata, nella sede di Salerno Pulita, ad alzare la voce, sono stati i facilitatori. Gli operatori arruolati dall'azienda per effettuare la campagna di comunicazione legata alla nuova raccolta differenziata. C'è stata mandata a noi operatori ieri, che era giorno 7, ma se voi lo leggete era dal 26 giugno al 30 giugno questa domanda. Io voglio sapere il motivo perché non è stato pubblicato bene, visto che è anche un'azienda pubblica. Perché? Come hanno fatto a scegliere? In queste ore Salerno Pulita ha deciso di sospendere anticipatamente l'attività dei facilitatori, che dal canto loro si sarebbero aspettati un trattamento più comprensivo da parte dell'azienda, accuse respinte dall'amministratore unico Vincenzo Bennett. Ricordo che non si tratta di un'assunzione, ma si tratta di lavoro in somministrazione. Non c'è nessuna proroga, non c'è nessuna possibilità di rimanere all'interno di Salerno Pulita. È solo una modalità per fraffronte al periodo di feria. Anche la politica si è mobilitata. I consiglieri Roberto Celano e Mbimmo Ventura hanno infatti inoltrato un esposto al prefetto. Chiediamo di frenare e di fermare questa procedura. Loro stanno assumendo personale internale dopo aver avuto il divieto di assunzione da parte del Comune di Salerno.